Perfetto ragazzi, ce l'abbiamo fatta, vi faccio anche un brevissimo home tour della cabina Questa è la porta d'ingresso, quindi si entra subito e con una scheda insomma, sto al settimo ponte Questo qui è l'armadio ed è molto carino, non è invadente per niente, vedete è fatto in questo modo E all'interno abbiamo delle stampelle, delle grucce e non lo voglio guardare, però me ne devo fare una ragione Sopra c'è questo qui, insomma, mi fa un po' effetto Adesso voi lo sapete che io sono un po' ansiogeno, insomma soffro un po' d'ansia, lo sapete, quindi insomma no Poi, da questo lato, appena dopo l'armadio, non so perché sto parlando a bassa voce Appena dopo l'armadio abbiamo questa scrivania, anche questa molto carina, molto basic però carina C'è una sedia qui per potersi sedere, poi ci sono dei cassetti, vedete, dove uno può mettere le cose Insomma c'è una tv, la mia sciarpa, c'è una tv anche abbastanza grande, devo dire per quello che alla fine poi è il viaggio Perché comunque non dimentichiamo che non è una nave da crociera, quindi per essere una nave diciamo giornaliera Veramente adoro, ovviamente ragazzi questa è la cabina diciamo luxury pro Per cui è quella che costa di più in assoluto, c'è tutto, c'è compreso il ristorante, business, la colazione Insomma è la migliore, non è che sono tutte così, anzi le altre, ce ne sono alcune con quattro letti, altre con due Io alla fine ho preso questa singola, poi da quest'altro lato abbiamo il mini frigo che vi faccio anche vedere così, vedete Praticamente qui ci si può mettere qualcosa ma in questo momento non c'è niente Ovviamente ragazzi noi ci accontentiamo Poi qui abbiamo, vabbè, il mio tubino e abbiamo anche una, come posso dire, una poltroncina, dai, carina, fatta così Devo dire anche comoda, prima mi ci sono seduto per legare le scarpe, abbastanza comoda E ovviamente poi c'è il panorama che è la chicca, la vediamo tra un attimo Poi qui vi faccio vedere il letto, molto molto bello, anche abbastanza grande Il soffitto è fatto in questo modo e ragazzi purtroppo non si può fumare nemmeno la sigaretta elettronica E per chi fuma insomma è un po' una rottura che devi andare fuori eccetera, 14 ore così Però insomma almeno si può fumare fuori Poi qui c'è un piccolo angolo soggiorno, vedete un tavolino fatto in questo modo Che poi sarebbe anche il continuo della poltroncina E c'è un comodino da questo lato, ops, eccolo qui Ma c'è anche dall'altro lato Ragazzi siete pronti? Questa qui è la lista, a me veramente piace tanto Poi insomma ognuno, per carità Però vabbè, il panorama lasciamo verde, cioè nel senso Provo a zoomarvi un po' E ve lo dico a fa' è veramente bellissimo Il panorama, meno male che il cielo si è liberato Perché era veramente tanto tanto nuvoloso, ha piovuto eccetera E praticamente ragazzi il settimo ponte sta proprio sulla punta Quindi me la vedo proprio frontale C'è la vista di bella La vista è veramente bellissima Questa qui Poi ovviamente c'è anche un'altra finestra da quel lato Chiamiamole finestre, sono un po' poco pratico delle navi Poi alle spalle del letto c'è questo quadro un pochino così, no? Che richiama i fiori, la natura, non so, l'isola Nerebbe da di Sardegna mia E da questo lato qui non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere Lo specchio che sarebbe sopra al mobile della tv Adesso andiamo nel bagno Sembrava piccola sta camera, invece sta cabina Invece in realtà veramente è grande Come vi dicevo prima ci stanno tutti quei cosi per il fumo Quindi non azzarderei né ora né mai a fumare insomma Poi questo qui è il bagno Adesso io giro la fotocamera Non entro con le scarpe nel bagno Perché voglio entrarci solamente con le pantofole Non che possa andare scalzo Perché comunque non mi fido più di tanto Però preferisco andare senza scarpe Perché se magari durante la notte mi alzo una cosa o un'altra Preferisco andarci senza scarpe Perché comunque è tutto piccolino Adesso vi faccio vedere Eccolo qui ragazzi è veramente piccolo ma funzionale Allora abbiamo nella parte dell'ingresso il lavandino Con tutte le mini size Eccole qua Vedete? C'è tutto l'occorrente per lavarsi eccetera Vorrei allungarmi a prendere sta cosa Ok ecco qui ce l'ho fatta Praticamente all'interno c'è bagnoschiuma Shampoo Saponetta Insomma c'è tutto l'occorrente per la doccia E poi ovviamente ci sono le saponette eccetera Poi ci sono lì le salviette quelle lì di carta Le salviette di carta Quello è il phon Vabbè il bicchiere per i denti Queste qui per le asciugamani Sempre i classici sentori Insomma per il fumo Poi qui c'è il water Non l'ho proprio nemmeno aperto Perché sono appena arrivato Eccolo qui Carta igienica Secchiettino quello lì Classico per l'immondizia Lì il piano per l'acqua E fammi vedere se sta pure in doccia Sì sta pure in doccia Perché poi c'è questa tenda Che lo sapete non amo E c'è la doccia Che è praticamente questa Ragazzi vi devo dire Sono stato in alcune case B&B eccetera Dove la doccia forse era proprio più piccola Quindi facendo una media Non è assolutamente piccolina Certo non mi piace tanto questo qui Però insomma ci adattiamo È veramente carino Non so nemmeno se farò la doccia Ma penso proprio di sì Perché non ho bisogno Quindi visto che tutto sommato Mi piace Penso proprio che una doccia la faccio Ah raga ho dimenticato Ci sta pure questo bellissimo specchio Che mi servirà per mettere l'elastico ai denti All'apparecchio E questo qui era il bagno Bene raga Quindi come avrete capito Veramente la camera La cabina mi piace Veramente mi piace Poi ci sono anche qui degli appendi abiti Insomma c'è tutto il necessario Qui c'è un altro secchettino Che non mi ho fatto vedere Ah poi anche da quest'altro lato Il comodino Che sempre non vi ho fatto vedere Con il cassetto E soprattutto ragazzi Cosa molto importante Ci sono Perché l'avevo vista Ok Ci sono due prese di corrente Nella camera Che sulla nave ragazzi Non è da poco Fidatevi Non è da poco Almeno da quello che ho letto E in più Ce ne sono anche altre Dietro il televisore Ce ne stanno tre Compresa quella del televisore Quindi due E poi c'è vabbè Il telefono Il centralino Se uno vuole fare qualche chiamata Analogico Quindi ragazzi Veramente Non ci possiamo assolutamente lamentare Mi piace veramente Tantissimo Quindi io direi Di fare una doccia Insomma Prepararsi eccetera Per Insomma Per poi andare a cena Perché c'è anche la cena Come vi dicevo Business Quindi potrebbe anche essere Che io alla fine Taglierò Questa parte di video Per fare Un home tour Della cabina della nave Se Se lo vedete Come singolo video Che ecco Che cosa è successo È successo Che pensavo Che in due minuti Lo facevo Invece vedo Che sto già a dieci minuti Quindi Considerando qualche taglio Però comunque Dieci minuti sono tanti Quindi può darsi pure Che ci faccio Una specie di home tour A parte Cabina tour A parte Se è andata così Lasciatemi comunque Un like E grazie per essere stati Con me in questo video Ci vediamo nel prossimo video Vi mando un bacio E un abbraccio Ciao